21 giugno sostizio d'estate il sole raggiunge lo zenith è incredibile l'ordine delle cose è stravolto lei diventa sempre più terrestre spero di no tutto cambia cos'è questa mascherata lei è un ottimo comandante d'astronali ma come taxista lascia molto a desiderare star trek night venerdì 21 giugno a partire dalle 22 40 su fox retro grazie